Come facciamo a realizzare delle foto perfette con la nostra fotocamera quando abbiamo una situazione di forte contrasto? Questa è una domanda che mi hanno fatto in tanti, soprattutto in riferimento alla fotografia di interni, di esterni, di architettura o di paesaggio. Nel momento in cui abbiamo una fonte luminosa molto potente e una zona d'ombra molto marcata all'interno della medesima composizione, facciamo fatica a gestirle entrambe. La nostra fotocamera fa fatica a catturare un'immagine che abbia i dettagli che ci servono sia nelle luci sia nelle ombre. Ecco che entrano in gioco diverse tecniche che possiamo utilizzare per andare a migliorare la nostra fotografia nel caso in cui ci troviamo in una condizione di contrasto estremo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. Un argomento che mi è stato ampiamente richiesto è proprio quello del bracketing sulla nostra fotocamera, ovvero di come gestire le esposizioni multiple per andare a realizzare una fotografia HDR degna di questo nome. Prima di cominciare io vi ricordo che se il tema solletica al vostro interesse potete trovare altri contenuti molto simili sul mio canale per cui andate a iscrivervi subito attivando anche la campanella così non perdete i prossimi aggiornamenti. Mettete anche un like a questo video perché se l'avete aperto sono sicuro che a qualcosa vi servirà. Molto bene, partiamo dall'inizio. Siamo abituati a scattare col nostro smartphone. Nel momento in cui scattiamo con lo smartphone c'è un sistema HDR integrato. Su alcuni telefoni lo dobbiamo attivare, su altri c'è di default. In sostanza però il nostro telefonino si prende cura da solo delle nostre fotografie perché non è pensato per fotografi, è pensato per chiunque, è pensato per una persona che non se ne cura, non ha il minimo interesse ad approfondire ma vuole fare la foto lo stesso. Per cui il telefonino fa tutto in automatico. Nel momento in cui scattiamo con una fotocamera invece dobbiamo essere noi ad andare a fare delle cose nella maniera corretta per portarci a casa il risultato. Ora vi porto come sempre un esempio pratico. Mi trovo qualche giorno fa a scattare presso un'azienda e dopo aver fatto le solite foto corporate noiose finalmente arriva il momento che mi diverte di più ovvero quello di fare un po' di fotografia di interni. La situazione mi richiede immediatamente di fare un bracketing perché mi trovo in una stanza con un contrasto abbastanza estremo. Nel senso che è una stanza di un piano praticamente interrato, quindi senza finestre, con delle luci molto luminose e delle zone d'ombra molto marcate. Quindi la mia fotocamera non è assolutamente in grado di catturare tutti questi dettagli. Stavo utilizzando la Canon EOS 6D, una fotocamera che a me piace moltissimo e qualcuno mi ha chiesto proprio di recente ma vale ancora la pena utilizzare questa fotocamera per fare foto di interni? La mia risposta è assolutamente sì perché come vi farò vedere con la 6D riusciamo a cavarcela anche in un contesto estremo come questo. Ora la prima cosa da fare ovviamente è comporre la nostra inquadratura. Quindi io qui avevo poca scelta. Era una stanza con dentro dei grossi macchinari per la stampa per cui io ho fatto una composizione di questa sala riunioni come meglio potevo dall'unico angolo che secondo me restitueva una visuale gradevole perché dagli altri angoli non era un granché. Quindi ho proprio scelto l'unico angolo che secondo me andava bene. Una volta fatto questo il meccanismo è semplicissimo. Andiamo a impostare il nostro bracketing e scattiamo le immagini. Vi faccio vedere però un trucchetto ovvero su Canon EOS 6D così come sulla maggior parte delle fotocamere che si trovano oggi in commercio c'è la possibilità di impostare gli step di bracketing ovvero io gli posso dire che deve farmi il bracketing punto e la fotocamera mi farà tre scatti perché lo standard per il bracketing sono tre scatti. Nel momento però in cui io voglio andare a decidere posso selezionare per esempio due scatti, una roba un po' strana non si fa mai, oppure ho una serie sempre con gli scatti dispari perché ho uno scatto in mezzo e degli altri scatti che si discostano per cui posso andare a selezionare per esempio cinque scatti o sette scatti. In questo caso io ho selezionato cinque scatti e ho utilizzato un bracketing abbastanza ampio perché volevo la forbice più ampia possibile. Ovviamente andando a dargli una forbice più ampia sarà maggiore la zona di gamma dinamica che andiamo a immagazzinare perché se noi produciamo un'immagine che ha un'esposizione molto alta e un'esposizione molto bassa avremo un range molto ampio. Se abbiamo anche tutte le immagini in mezzo ecco che andiamo a riempire tutti i buchi di informazioni che ci possono essere dentro nella nostra sequenza. Se facciamo 20 scatti in bracketing ma solamente con un terzo di stop di compensazione ecco che abbiamo sprecato un sacco di foto perché potevamo ampliare il margine del nostro bracketing e portarci a casa meno immagini. Ora in questo caso è molto importante essere efficienti perché scattare cinque immagini per portarsi a casa una sola immagine non è una cosa per niente economica né a livello di tempo né a livello di stress a cui sottoponiamo la nostra attrezzatura perché ricordiamoci che le fotocamere non sono eterne non è che siccome sono digitali sono eterne non è così per cui dobbiamo essere efficienti dobbiamo ragionare e dire mi conviene fare il bracketing primo in questo caso è indispensabile. Seconda cosa mi conviene fare il bracketing a cinque o più stop. in questo caso ho reputato di sì perché siccome non gliene facevo tante di foto questa era l'unica foto di interni che gli facevo ho detto almeno questa deve venire non bene di più deve essere precisa perfetta per cui quello che facciamo è che andiamo a impostare i nostri cinque scatti in bracketing dopodiché andiamo a impostare gli stop di bracketing che vogliamo quindi ovviamente vedete che più giro più sarà la distanza tra uno scatto e l'altro ovviamente se le mie foto sono tutte vicine come esposizione sto guadagnando poca gamma dinamica invece se le distanzio sto guadagnando tutta la gamma dinamica di cui è capace la mia macchina fotografica. In questo caso tre stop di gamma dinamica a scatto è tanto vuol dire che ci portiamo a casa una una zona ampissima con cui poi siamo in grado di fare pressoché quello che vogliamo in post produzione e infatti adesso vado a farvi vedere proprio le fasi di post quindi il merge to hdr che è stato fatto tramite camera raw di photoshop e vedremo che risultato siamo riusciti a portarci a casa faccio una doverosa premessa tutta la parte di editing la sto facendo in diretta non l'ho provata prima non l'ho studiata e questa è la prima volta che scatto in bracketing a cinque stop perché normalmente ne uso tre normalmente scatto in dei contesti un po più semplici questa è la prima volta in assoluto e quindi ho colto la palla al balzo per portarvi questo contenuto per cui quello che vedrete non è studiato e io stesso non sapevo com'era il risultato cioè potevo immaginarmelo però diciamo che lo sto scoprendo veramente insieme a voi molto bene eccoci qui all'interno di photoshop come potete vedere io sono un ragazzo sveglio e ho già selezionato le immagini che ci interessano ovviamente ne avevo scattate un po ma sono andato a identificare la serie che mi piaceva di più dunque andiamo a premere il nostro tasto destro e andiamo a dirgli di combinare le immagini che abbiamo selezionato viene lanciata la solita finestra di dialogo quindi si dobbiamo aspettare qualche secondo nel frattempo vi faccio notare che la scena è tutt'altro che perfetta perché qui abbiamo una condizione di illuminazione veramente estrema abbiamo molto buio qui in basso perché questo è un piano interrato sostanzialmente e abbiamo molta luce in alto perché ci sono queste luci ok andiamo a combinare le nostre immagini ci viene chiesto di posizionarle ovviamente le posizioniamo nello stesso posto dove stanno tutte le altre foto così poi le rintracciamo senza problemi a questo punto come sempre vado a spegnere il contrasto che non voglio assolutamente vado a ridurre gli highlights che non voglio così pronunciati andiamo a vedere se c'è qualcosa che clippa effettivamente c'è qualcosa che clippa per cui in questo caso io voglio andare a diminuire ulteriormente le alte luci in queste aree perché io vorrei che non clippassero proprio idealmente in un contesto come questo quindi vado proprio ad abbassarle in questo modo in maniera che non clippino proprio poi vado a rimuovere le pennellate che ho fatto dalle aree in cui non servono ok e le lascio solo dove le volevo effettivamente adesso vado a rimuovere ed ecco che abbiamo la nostra immagine a questo punto possiamo fare qualche considerazione come per esempio che gli potremmo dare un più 4 di clarity vibranus più 20 e saturation più 3 già mi soddisfa sostanzialmente a questo punto possiamo andare a sistemare geometri e qui ci viene abbastanza semplice perché non faccio altro che andare a raddrizzare le verticali in questo modo e una e due di poco perché come detto era già praticamente giusta in camera però quella giustatina che non fa mai male ok e vedete che in pochissimo tempo abbiamo la nostra immagine finale qui abbiamo camera landscape proviamo camera standard va ok mi sento più a mio agio con camera standard perché di solito è più fedele a quello che vedo in effetti questa arancione è un po troppo acceso invece camera standard vedete che mi rispetta anche un pochino di più le sfumature adobe standard scusate mi rispetta un pochettino di più le sfumature vediamo camera standard come sarebbe finché ce l'ho fresco in mente e sapete che anche questo non è male però questo mi scurisce un pochino le ombre quindi mi obbliga ad andarle a riaprire è soltanto questione di di trovare la quadra qui ovviamente ci sono delle cose che non vogliamo vedere tipo il cestino e tipo i fili però queste posso andare a rimuoverle successivamente in photoshop in fin dei conti potrei anche non farlo perché non mi è stato richiesto di toglierla e anzi mi hanno comunque detto che è una sala riunioni e che quindi deve avere un aspetto di sala riunioni e non da catalogo ma proprio da da azienda quindi ci sta che ci siano i fili del proiettore sappiamo tutti che non sono belli però è una normalissima sala conferenze quindi è anche possibile che verrà lasciata in questo modo andiamo a vedere che questa era l'immagine catturata quindi queste sono le possibilità che ci offre il sensore della nostra fotocamera ok vedete che ci sono tanti dettagli che vanno persi così come ci sono dei dettagli che vanno persi se prendiamo l'immagine più scura e qui è pur sempre vero che possiamo andare a recuperarla ma andiamo a introdurre tantissimo rumore abbiamo un'immagine con un livello qualitativo molto molto basso vedete se vado a ingrandire spero che riusciate a vedere c'è tantissimo rumore qui se noi andiamo a fare lo stesso ingrandimento sulla nostra immagine post prodotta con l'hdr vedete che la qualità invece è perfetta non abbiamo il benché minimo rumore non ho nemmeno fatto attenuazione del rumore quindi avrei anche potuto farla ma comunque l'immagine è assolutamente perfetta in termini di qualità e rispetta tutti i dettagli sull'intera immagine per fare una foto di questo tipo in un ambiente con un'illuminazione così estrema sono stati necessari ben cinque scatti bene amici eccoci qui ritornati in studio abbiamo visto la post produzione non è stato come avete potuto vedere niente di complicato le solite cose che vi ho già fatto vedere in video precedenti sulla fotografia di interni sono sempre le solite regole che io applico tutte le volte diciamo che qui la differenza è che ci sono più scatti da mescolare per ottenere la nostra immagine completa questo significa che avremo una foto finale che peserà di più questa foto pesa tantissimo pesa 100 mega una foto sola il dng il jpeg che andiamo a esportare no quello pesa normale però il dng pesa 100 mega da solo perché ha tantissime informazioni ricavate da cinque fotografie quindi sono veramente tante informazioni da mettere in una foto sola ovviamente questo è possibile perché la camera era stabile sul cavalletto altrimenti non sarebbe stato possibile in video precedenti vi ho detto che ogni tanto me la cavo anche a mano libera quando faccio la hdr quando faccio il bracketing con tre scatti però con cinque no con cinque viene un disastro quindi assolutamente indispensabile avere un treppiede è anche abbastanza stabile vedete che man mano che alziamo l'asticella è sempre più necessario che l'alziamo bene quindi che facciamo le cose con i sacri crismi e abbiamo un treppiede un cavalletto prestante che riusciamo a fare le cose a lavorare nella maniera corretta quello che vi ho fatto vedere oggi è un procedimento altamente professionale lasciamo perdere poi i risultati lo sappiamo che l'influencer di turno fa una singola fotografia gliela pagano 25 mila euro per ballare con il calippo in mano del brand tal dei tali a me non danno 25 mila euro per questa foto però il livello di tecnica che c'è in quello che faccio io e in quello che fa l'influencer che si mangia il calippo è diverso siamo ovviamente al momento delle considerazioni finali per cui vi posso dire da questa esperienza sono contento perché ho azzeccato sostanzialmente con uno dei primi colpi ho azzeccato correttamente il bracketing a 5 stop come sempre la cosa importante è che facciamo correttamente l'esposizione di mezzo perché se becchiamo l'esposizione di mezzo poi avremo informazioni in su e informazioni in giù l'importante è non cannare perché se abbiamo sbagliato l'esposizione poi arriviamo a casa e magari abbiamo tante foto sottoesposte e nessuna sovraesposta e quindi facciamo fatica poi a ricavare il nostro hdr ricaviamo una fotografia che è sbilanciata quindi è importante azzecarlo in camera per fortuna abbiamo uno strumento indispensabile che ci aiuta che è il display noi possiamo andare a vedere le immagini che abbiamo appena scattato e capiamo subito se sono giuste oppure no adesso con le mirrorless abbiamo anche un altro sistema possiamo vedere direttamente in anteprima qual è l'esposizione che stiamo facendo così è troppo facile io ve lo dico così io non mi diverto neanche a me piace usare l'esposimetro e cercare di capire quello che sto facendo prima di scattare è un giochino è un giochino a me piace chi nasce adesso con le mirrorless non lo farà mai questo giochino perché vedrà già il risultato finale a monitor a me piace cercare di indovinarlo subito quindi se avete una fotocamera vecchia come la 6d che stavo usando io provate a fare questo giochino guardate l'esposimetro in camera andate sulle alte luci e vedete che lettura vi dà andate sulle ombre vedete che lettura vi dà e fate la media è semplicissimo sbagliate di poco se fate la media sì magari sbagliate di uno stop che comunque lo recuperate al secondo scatto quindi è anche divertente pensare un puzzle è un problema da risolvere a me piace questa parte del lavoro il problem solving legato al fatto che devi ottenere un risultato è parte della professione nel momento in cui arrivi lì con una mirror response scatti ed è già fatto è vero hai risparmiato tempo però tu sei meno bravo rispetto a una volta e il momento che ti mettono in mano un'attrezzatura vecchia non la sai usare la stessa cosa del cambio se impari a guidare col cambio manuale poi al cambio automatico ti abituino un attimo il contrario non è così vero a questo punto vi chiedo fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate di questa tecnica fatemi sapere se la utilizzate anche voi fatemi sapere se non ve ne frega niente perché tanto scattate col cellulare che ve la faggia giusta fatemi sapere se lo fate per passione o per lavoro vi ricordo anche che in entrambi i casi potete comunque trovare argomenti di vostro interesse su questo canale per cui questo è il momento di iscrivervi se non l'avete ancora fatto lasciate anche un like a questo video perché se l'avete guardato fin qui vuol dire che qualcosa di utile ce l'avrete pur trovato amici questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video